Finisce 2-1 per la Juventus, è una vittoria però inutile perché ai quarti ci va il Lione di Rudi Garziano Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, come mi sentite? Fatemi subito sapere come è l'audio, se è buono perché l'ultima e l'unica volta che abbiamo utilizzato queste cuffie era la finale di Coppa Italia che la Juventus tra l'altro perse, ecco forse non dovevo dirlo subito, vi ricordo ancora una volta un po' di cose importanti allora se siete nuovi, se siete qui per caso, iscrivetevi al canale perché è importante, perché comunque al di là delle live siamo in live questa sera, saremo in live domani sera con Barcellona Napoli, ci sono comunque tanti video ovviamente vi consiglio anche di seguirmi su Instagram se semplicemente volete rimanere più in contatto con me se volete un altro tipo di contenuto meno professionale, meno calcistico anche per certi versi seguitemi lì rimontare lo 0-1 dell'andata, l'obiettivo primario in casa Juventus al termine di una stagione molto particolare, travagliata, all'interno della quale sono arrivate tante, tante critiche in particolar modo per Maurizio Sarri quello di stasera deve essere un riscatto in primis per l'allenatore bianconero poi chiaramente anche per la squadra, un po' in calo nelle ultime settimane per farlo, queste formazioni, Juventus in campo con il 4-3-3 Scesni tra i pali, il quartetto difensivo è quello ormai titolare da destra a sinistra composto da Wang Ilgelmo Quadrado poi De Ligt, Bonucci e Alex Sandro centrocampo composto da Pjanic, Bentancur e Rabiot e poi il tridente con Bernardeschi, Higuain e Cristiano Ronaldo risponde in Lione con Lopez e poi 3-5-2 ci sono Marzal, Denayer e Marcelo in difesa poi il centrocampo composto da Guimaraes in cabina di regia supportato da Huar, talento cristallino, talento incredibile il numero 8 su di lui Big Europee poi abbiamo Cadere in maglia 25, Dubois e Cornet sugli esterni attenzione in particolare al numero 14 che è un gran talento ma poi all'esperienza anche delle 27 di Cornet Depay e Ekambi a comporre il tandem offensivo e a concludere quella che è una formazione sicuramente non all'altezza della Juventus ma una formazione pericolosa è cominciata, Juventus-Lione è cominciato l'ottavo di ritorno della Champions League 2019-2020 si riparte dal gol di Tuzar poi a sinistra per Ronaldo che si abbassa subito per condurre il pallone la sterzata del 7 che sembra già entrato in partita dopo 40 secondi poi Rabiot avanza e cerca il cross per Iguain che ci mette il sinistro diventa un passaggio però il suo Lopez perché si è salvato con Denayer il Lione, bravissimo il 5 a tornare a dar fastidio Lione che riesce a ripartire con Memphis Depay tra le linee e di sponda Cornet sulla sinistra, entra in area, sponda centrale perché arriva Huar che finisce per terra calcio di rigore calcio di rigore per il Lione al decimo del primo tempo il contatto tra Bentancur e Huar che non è mai calcio di rigore perché Bentancur prende il pallone poi inevitabilmente colpisce anche il calciatore francese ma rigore che francamente a parer mio non esiste c'è un check in corso intanto per l'intervento ormai arrivato un minuto fa rigore confermato Depay contro Szczesny minuto 12 in corsa di Depay destro e Lione in vantaggio con il cucchiaio del centravanti olandese che ha messo il pallone al centro della porta mentre Szczesny è andato giù alla sua destra Lione in vantaggio sul calcio di rigore con Depay al dodicesimo in questo momento la Juve deve segnare tre gol senza subirne per passare ai quarti ha chiuso De Nijer poi di testa Pjanic a raccogliere sale Sandro sulla sinistra può controcrossare lo fa verso Ronaldo che va di testa e la mette sul fondo Svajer sta posizionando la barriera per tenerla a distanza Lopez è concentrato perché vuole vedere partire il pallone concentrati soprattutto Ronaldo e Pjanic entrambi contano i passi Pjanic è concentrato adesso i passi li conta Ronaldo però va Ronaldo Lopez Vola e tiene il pallone fuori dalla porta non è finita la raccoglie ancora il portoghese che cerca di rimettere dentro ha chiuso Bruno Guimaraes che poi allontana e i bianconeri continuano a provarci sempre con Ronaldo che parte da sinistra converge verso il centro messo giù ancora calcio di punizione per il fallo di Guimaraes sul portoghese stavolta c'è Pjanic sul pallone va Pjanic sul fondo e poi attenzione calcio di rigore calcio di rigore per la Juve deviazione di Depay sulla punizione di Pjanic calcio di rigore per la Juve non ha dubbi Svajer che assegna il penalty a tre e mezzo dalla pausa ha monito Depay perché secondo il direttore di gara aveva il braccio troppo largo adesso rivedremo punizione no direi proprio di no secondo rigore ingiustificato della serata Svajer ne sta combinando una presso all'altra e Svajer lo ha assegnato calcio di rigore per la Juve io francamente ho i miei dubbi fischia Svajer parte Ronaldo che spiazza Lopez fa uno a uno lo squillo del campione e la Juve torna sul livello del mare almeno in questa gara di ritorno non ancora come Aggregate perché deve segnare un altro gol per pareggiare i i due gol del Lione tra andata e ritorno ma soprattutto deve segnarne un terzo poi per passare ai quarti per ora è uno a uno gol di vitale importanza prima dell'intervallo attenzione perché Nicola Nicola dice se arrivi a 143.000 iscritti in questa live sparo in rosso che significa donare praticamente 100 euro o 200 adesso non so in questo momento siamo 142.116 altri 900 iscritti ragazzi e Nicola dona un qualcosa di incredibile intanto conclusione in porta per il 2 a 1 della Juve per il 2 a 1 della Juve mentre parlavamo di donazioni e tanto per cambiare l'ha messa dentro Cristiano Ronaldo che si è inventato il gol del sorpasso il gol che dà vita ai bianconeri per crederci tutto nasce da una palla recuperata da parte di Bonucci su Depay poi De Ligt azione che si sviluppa sulla destra Ronaldo arriva in zona tiro ce l'ha sul sinistro carica e Lopez ci mette solo la mano ma la palla sbatte sul palo ed entra in porta Juventus 2 Lione 1 Cristiano Ronaldo doppietta e Juve ad un gol dai quarti di finale parte Bernardeschi dalla bandierina verso Bonucci che colpisce ma non trova la porta 63esimo 2 a 1 Juve e tante occasioni di bala dalla bandierina parte il 10 verso Ronaldo che la mette sul fondo a centimetri dal gol del 3 a 1 la Juventus a centimetri dalla tripletta il marziano in maglia 7 siamo mille in live siamo mille in live ragazzi facciamoci un applauso facciamoci un applauso tutti quanti al di là della partita al di là del momento questo è record per il mio canale io vi ringrazio di cuore tutti quanti siamo mille in live 1038 per l'esattezza perché c'è ancora vita per la Juve c'è ancora speranza un solo minuto però un minuto da vivere orizzontale per Ramsey che va in verticale palla allontanata male quindi rimessa Juve a 15 secondi solo 15 secondi dalla fine del recupero Bonucci riallarga per Danilo c'è sempre Bonucci dietro arriva un cross che è corto però messo fuori recupero che è virtualmente finito di testa Bonucci per crederci ancora con la Juve che è sempre lì ultima azione il tocco è per Olivieri che riapre Danilo al cross verso Ronaldo anticipato poi la palla è sempre viva dalla parte opposta siamo 10 secondi oltre i 6 di recupero ma si gioca comunque con Alexandro al cross deviato in terra Lione però non in terra Juve e possono ripartire i francesi con un maledetto contropiede al 97esimo con tutta la calma del mondo ma con la palla tenuta lontana dalla porta di Lopez c'è spazio per Thiago Mendes che adesso è direttamente dentro l'area della Juve il Lione vuole chiaramente più che segnare tener lì il pallone e lo fa con tutta la calma del mondo arriva anche Olivieri a chiudere e fischia tre volte il direttore di gara finisce 2-1 per la Juventus è una vittoria però inutile perché ai quarti ci va il Lione di Rudy Garcia grazie al gol segnato in trasferta il gol che neanche a farla apposta arriva da un rigore molto dubbio trasformato da Depay è un rigore molto dubbio anche per la verità per onestà di cronaca onestà intellettuale quello di Ronaldo quello che pareggia la partita Ronaldo che poi nella ripresa segna un gol bellissimo ma non basta ci ha provato la Juve ci ha provato come l'anno scorso e io credo che comunque sia se si analizza il futuro di Sarri dopo la partita di stasera lo si deve fare al di là del risultato nel senso che la Juve ha fatto esattamente quello che doveva fare per passare in turno poi non c'è riuscita perché nel calcio può succedere anche questo non c'è riuscita e va bene però poi bisogna analizzarlo se tu esoneri Sarri secondo me lo devi esonerare anche in caso di passaggio del turno perché la prestazione c'è stata ripetiamo ci vediamo domani ci vediamo domani con Barcellona-Napoli per quanto riguarda le cronache ovviamente vi ricordo il video imperdibile che ho registrato con quella telecamera lì quindi ciao a tutti un bacione never give up e bella regà buonanotte andate a godere chi vuole godere andate a piangere chi vuole piangere ciao a tutti ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti